Grazie. Grazie a tutti. Abbiamo kiwi gialli e kiwi rossi, sono varietà brevettate, sviluppate negli anni e che commercializziamo in tutto il mondo. Abbiamo un barbaccio italiano. È uno spettacolo per noi che possiamo poterlo incontrare. Noi pensi che noi non abbiamo? Facciamo 350 milioni di piante. Abbiamo la possibilità di quegli intercenti dal territorio e aumentare tutti i tipi vicini stagionati. E' un po' più importante. Come è? Come è? Come è? Tutto il territorio facciamo tutto in agroponica, tutto il suono. Il germoglio è un problema particolare. No, è un campionario a maniera. Grazie. Colori anche. Ottico, qui c'è una tecnologia pazzesca perché si riescono a vedere i difetti della frutta senza minarla. E' un po' con la funzione. Tutto robotizzato. Le aziende vengono rimpite. Complimenti. Se troppo quella richiamano. Grazie. Sì! 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 Sì!